Due riconferme ad Elia Bancheri e a Sutera Grizzanti e poi eletti tre nuovi sindaci in provincia di Caltanissetta. Il comune più grande che ha rinnovato il governo della città è Riesi, dove è stato eletto Salvatore Chiantia, supportato dalla rista Riesi Attiva con 3.980 voti pari al 65% circa. Risultato prebiscitario e maggioranza bulgara per Gianfilippo Bancheri, che è stato rieletto con 2.219 voti su 2.426 votanti, eletto con il 95,9% dei voti. La sua lista continuiamo per Delia. A Milena è eletto Claudio Cipolla, sostenuto dalla lista Progetto Comune. Cipolla ha ottenuto 1.274 voti contro lo sfidante Alfonso Cipolla, invece che ne ha ottenuti 848, ovvero il 40%. A Montedoro è eletto il sindaco Renzo Bufalino, già vice sindaco dell'Aggiunta Messana, la sua lista futuro possibile. Il neosindaco ha ottenuto il 55,26% dei voti e 514 voti contro 455 di Calogero Messana, sfidante. A Sudera riconfermato, Giuseppe Grizzanti, sostenuto dalla lista su Terra Libera, ha ottenuto 540 preferenze, ovvero il 52,99% dei voti contro i 479 voti dello sfidante Calogero Belfiore, con la lista su Terra Il Futuro Siamo Noi. In complesso sono stati 2306 voti ai sindaci e 2276 quelli alle liste, con 120 voti non validi e 32 schede bianche.